se l'oscurità per te è male non perdere tempo e chiudi subito questo scritto non troverai nulla di interessante se l'oscurità ti traghetta nella superstizione ti stai ancora trascinando nel fango della vita trasportando pesanti fardelli e per il tuo bene e solo per il tuo bene ti auguro di crollare miseramente il più presto possibile se l'oscurità per te è mistero e se è il mistero ad aver governato la tua vita da quando ti ricordi allora vieni con me vieni con me ma ricorda un mistero per definizione non va svelato in questo viaggio non saremo cacciatori spietati o curiosi forestieri no fratello se vorrai venire con me dovrai indossare la sacra e gentile veste del visitatore saremo ospiti in attesa di residenza non è detto che ci lasci non restare per questo dobbiamo fare piano senza disturbare alcun elemento se non sarà lui a offrirsi spontaneamente a noi devi sapere che quello che di giorno è un albero di notte non lo è più è un'altra cosa un'altra forza un'altra essenza allora decidi scendi con me le tue mani dovranno essere vuote così come il tuo cuore non si portano pesi in discesa altrimenti il rischio di schiantarsi è assicurato dovrai fidarti di me ma stai tranquillo l'ho fatto tante volte e ora se sei pronto seguimi